Ho visto il lavoro che è stato fatto ieri, sono stato anche in contatto sino alla sera precedente sia col prefetto di Napoli sia col capo di gabinetto del ministro dell'interno e il prefetto Lamorgese. Innanzitutto ho apprezzato il fatto che il sindaco sia stato ascoltato, sia stato tenuto sul tavolo praticamente, quindi c'è stato un rapporto importante dal punto di vista istituzionale col sindaco. Io questo lo trovo un segnale importante che va anche in linea con la riforma che noi abbiamo auspicato come Anci, cioè che i sindaci, soprattutto le città metropolitane, possano avere un peso sempre maggiore all'interno delle decisioni anche sul Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E alcuni di quei punti sono i punti che noi da tempo stiamo sottolineando, per esempio la videosorveglianza e proprio l'approvazione nel piano nazionale di quello che è il lavoro che è stato fatto in questi mesi molto importante tra la Prefettura di Napoli, il Comune di Napoli e anche Enem, quindi è un risultato molto importante. Così come più volte ho chiesto qualità e quantità nel livello investigativo e delle forze di polizia e questo è un segnale importante, quindi non solo più donne e uomini, più pattuglie per interventi su alcuni territori, io ho auspicato soprattutto la sera e la notte che è quello che avverto anche dalle richieste dei cittadini, anche da quello che vedo io personalmente, ma anche un intervento sulla qualità del personale investigativo. Segno che non si guarda solo al momento della recrudescenza criminale, ma anche quello di cercare di approfondire, investigare e capire che cosa sta avvenendo anche in alcune aree che sono state anche pesantemente colpite da azioni di magistratura e forze lordi e dove c'è anche un'attività politica, istituzionale e sociale, sia da parte del Comune e delle istituzioni, ma anche da parte della società civile e sul territorio. Quindi credo che siano segnali importanti, quelli che sono venuti, c'è un'attenzione significativa e poi credo che c'è stata anche una buona chiusura istituzionale di alcune cose che non sono andate in questo momento, cioè le parole del Presidente della Repubblica che credo siano state molto importanti. È stata una visita significativa, parole importanti, messaggi e soprattutto chiarezza nelle sue espressioni, anche sulla forza di Napoli, sul ruolo che avranno i giovani, sul DNA della nostra città, sullo stare insieme tra le forze che sono impegnate quotidianamente sul territorio. Quindi credo che stiamo sulla strada giusta, società civile, istituzioni e che sta in prima linea ogni giorno in una città complicata come Napoli.